Benvenuti a tutti i telespettatori, oggi è una giornata particolare per me, vado a presentare un nuovo mezzo per fare branding, grazie anche a 50 canali che oggi ve lo possiamo presentare. Se vedete le bottiglie alla mia destra, riportano dei marchi che hanno deciso di distinguersi per tutta una serie di motivi attraverso questo mezzo e i risultati ne portano ovviamente la prova. Gabriele, te comunque sei a contatto con i clienti, che ne pensi? Assolutamente Massimo, distinguersi è la parola giusta, perché noi qui a 50 canali utilizziamo sempre le bottigliette personalizzate in ogni trasmissione e a contatto con i clienti nelle nostre riunioni. È veramente un modo semplice, facile, originale e di classe, direi un tocco di classe per le vostre aziende e presentarsi con l'acqua con il vostro marchio. Esattamente Gabriele, la personalizzazione dell'etichetta della bottiglietta è fondamentale per costruire quella comunicazione one to one marketing che il mezzo oggi concede. Per bere la bottiglietta dobbiamo prenderla in mano e quindi il contatto con il messaggio è diretto, è immediato. Non tutti lo fluiranno sicuramente, ma il potere di essere sicuri che andiamo a toccare ogni persona che prende la bottiglietta diventa fondamentale. Che ne dici Gabriele? Sono pienamente d'accordo con te Massimo. Noi stiamo riscontrando un grande successo, grande successo con le bottigliette personalizzate per le aziende e per i nostri clienti, perché è veramente un modo semplice di rappresentare le vostre aziende. Ci possono essere aziende che fanno convention e che quindi possono rappresentare il loro marchio durante la convention. Ci possono essere aziende che utilizzano la nostra bottiglietta, la bottiglietta personalizzata, per poter fidelizzare il cliente, il cliente finale. Questo è anche lo scopo delle bottigliette personalizzate. Quindi Gabriele, se ci sono aziende che ci stanno seguendo in questo momento, ascoltateci fino alla fine perché ci sarà ovviamente di benefit per chi ovviamente avrà piacere. Ma quelle che ovviamente stanno ascoltando ragionate effettivamente su questo tipo di comunicazione che diventa vincente. Sì, poi la personalizzazione dell'etichetta, essendo molto piccola e quindi non è possibile fare tantissimo, lascia la creatività al grafico di poter dare l'essenziale nella comunicazione e quindi di rendere, come vedete in queste etichette, una qualità grafica molto moderna, molto qualitativa, molto pulita, che rende poi il messaggio fruibile, anche grazie a quelle che sono poi le innovazioni tecnologiche. Gabriele? Sì, i nostri clienti sono entusiasti della versatilità, delle grafiche che possiamo inserire nelle loro bottigliette personalizzate. E soprattutto di una grande novità dell'utilizzo all'interno delle bottigliette, della grafica, del QR code. Massimo, ci vuoi spiegare questa grandissima novità del QR code? Sì, il QR code è appunto il poter portare l'utente che è interessato a quel messaggio sulle proprie pertinenze digitali. Noi utilizziamo dei QR code digitali e dinamici che consentono non solo di portare il cliente nelle pertinenze del cliente stesso, ma anche di tracciare questo contatto. E quindi nella campagna comunicazionale siamo in grado di dare anche i numeri di quante persone hanno scansionato quel tipo di comunicazione. Quindi, se ho capito bene, un cliente, oltre che pubblicizzare le proprie attività, oppure fidelizzare o fare delle scontistiche particolari, può anche vedere dal QR code quante persone hanno poi in realtà scannerizzato lo stesso QR code. Non solo, ma io dico che questo rappresenta un volantino 5.0. Il QR code dinamico mi dà la possibilità di cambiare i puntamenti degli indirizzi digitali e quindi la bottiglietta, a prescindere dal periodo in cui andrò a scansionare quel QR code, potrà parlare al cliente della novità di quel momento, non ovviamente di una novità vecchia. Non so se mi sono spiegato, Gabriele. Sì, quindi si possono anche, diciamo così, aggiornare i QR code. Assolutamente. Perché anche questa è una bellissima novità, non sarà sempre la solita offerta o la solita promozione. C'è la possibilità, naturalmente poi vi spiegheremo tutto quando verremo a trovarvi, c'è la possibilità anche di aggiornare le offerte attraverso il QR code. Assolutamente. Un altro argomento che mi piace trasferirvi è il fatto che stiamo cercando di abbattere il CO2 nei limiti del possibile perché non sono iniziative che hanno una larga scala. E l'acqua con cui personalizziamo le etichette è l'acqua del tesorino. L'acqua del nostro territorio viene prodotta a Montopoli-Valdarno. E quindi tutte queste iniziative che noi vi stiamo alimentando stanno nel nostro territorio. Vuol dire che c'è poco movimentazione di camion, movimentazione di mezzi che consumano e quindi che incidono sul nostro ambiente. E io credo che questo sia anche un argomento di comunicazione per i clienti. Che ne dici, Gabriele? È un argomento importante soprattutto in un momento dove l'ambiente e l'impatto zero è all'ordine del giorno. Noi ci teniamo a usare una parola, sostenibilità. È una sostenibilità a chilometro zero, se così possiamo dire, utilizzando un'acqua del territorio per dimostrare anche di essere attenti alla natura e all'ambiente che ci circonda. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio tutti i telespettatori di averci seguito fino a qui. Spero che le informazioni che vi abbiamo dato abbiano accesso alle lampadine alle aziende che ci stavano ascoltando. E per questo, per le prime 20 aziende, ci sarà uno sconto del 30% e la lavorazione personalizzata della grafica dell'etichetta. Certo, Massimo. Allora, vi ricordo di chiamare i nostri numeri e chiedete direttamente di me. Vi ricordo ancora la promozione, non vi scordate della promozione. Alle prime 20 chiamate, 30% di sconto e la grafica in omaggio. Chiamate, 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 chiedete di me e sarò lieto di illustrarvi tutte le nostre promozioni e tutti i vantaggi dell'acqua personalizzata. Arrivederci. Salute a tutti. Grazie.